Musica Teresa Porievini, siamo a Bergamo, Trattoria Falconi, abbiamo i due fratelli Marco e Giorgio per questa serata incandescente, abbiamo veramente il tutto esaurito presenteremo il Franconia dell'azienda Bertoli, ma soprattutto ci sarà anche un ottimo menù Questa sera la nostra trattoria presenta dei piatti abbastanza semplici ma raffinati nel loro procedimento e nella loro preparazione questa trattoria è conosciuta come una trattoria tosco-bergamasca, perciò partiremo da un prosciuttino di porchetta servito proprio a carpaccio, leggero, leggero proveremo qualcosa di eccellente come il tartufo bergamasco abbinato a un risottino con il taleggio nelle nostre vallate e poi andremo sul guanciale, guanciale di Chianina perché ripeto tosco-bergamasca, perciò guanciale di Chianina messo a riposare nel vino di Bertoli di questa meravigliosa azienda e lo abbineremo proprio col Franconia, perciò spero proprio che sia una serata meravigliosamente piacevole addirittura avremo la possibilità di assaggiare tutti i vini dell'azienda partendo con il Brut, il Brut metodo classico, il metodo classico Rosé e poi via con tutti i vini per arrivare appunto a questo grande Franconia che vi racconteremo anche più tardi Siamo con la serata dedicata ai vini di Angelo Bertoli e la sua azienda, cosa ci presenti? Abbiamo portato il Franconia che è l'ultimo nato in azienda, è un vitigno autotono bergamasco e stasera ci daremo la degustazione e vedremo i risultati E oltre a questo? Abbiamo portato anche due spumanti metodo classico, un Brut e un Rosé e un Cabernet in Purezza Fantastico, buona serata Grazie Grazie Grazie